Dieci associazioni nazionali e due regionali hanno chiesto al governo, guidato da Mario Draghi, di bloccare il progetto SNAM, una volontà partorita dieci anni fa nella regione dei Parchi, che prevede la costruzione di una centrale di compressione a Sulmona e la realizzazione della linea adriatica, un metadono d'otto di 425 km, che parte proprio dal capoluogo Peligno ed arriva a Minervo, in provincia di Bologna. Nel testo le associazioni evidenziano l'inutilità delle due infrastrutture, che avrebbe inoltre un impatto ambientale che provocherebbe uno sconvolgimento devastante degli ecosistemi e degli equilibri del nostro appennino, tutelati nell'articolo 9 dello Statuto della Regione Abruzzo. Inoltre l'intera opera risulta in contrasto con gli impegni assunti dall'Italia a livello internazionale nella lotta contro i cambiamenti climatici. Crediamo che Draghi e i suoi ministri siano, ci auguriamo, disponibili ad ascoltarci, ma soprattutto, visto che le forze politiche abruzzesi, parlamentari inclusi, eletti in Abruzzo, non hanno riferito, non hanno fatto una proposta, come dire, di contenimento per impedire questo progetto, questo percorso, allora vogliamo dire a Draghi, guardate che le cose stanno così e che l'Abruzzo non può essere sacrificato su questo altare. Ogni albero ha un valore, secondo la scala svizzera, che è una delle scale internazionali prese in considerazione per la valutazione del valore ecologico, sanitario, climatico e altro, per non fare lungo elenco, ogni albero dell'età di 50 anni ha un valore di 40.000 euro, allora voi fate 5 milioni per 40.000 euro, quindi un valore enorme, che già di fronte a questo la regione Abruzzo dovrebbe dire alla SNAM, no, assolutamente non possiamo sacrificarlo, perché sacrificare le foreste significa andare contro gli accordi di Parigi, ma contro il futuro stesso degli abruzzesi, il futuro degli italiani.